salve a tutti ragazzi questo è uno dei nuovi pc che sto provando e sto testando per allestire il famoso studio con quale farò tutti i giorni contatto in diretta o quasi che sarà un format molto simil televisivo ma con dei contenuti forti con ovviamente anche partecipazioni esterne con molte immagini insomma sarà un programma molto animato anche con dei video inseriti dunque non perdetevi l'appuntamento perché mi sto impegnando per cercare di partire entro fine mese l'investimento economico che sto facendo è importante nonostante i guai che voi sapete che ho dovuto affrontare che sto affrontando dopo la perdita della causa condecorato però insomma confido anche nella bontà di chi mi seguirà mi impegno davvero per rendere questo prodotto popolare fruibile a tutti nel frattempo vi avverto che tra qualche minuto arriverà su internet anche la polanco culetto d'oro così la chiama berlusconi oggi lo sappiamo perché sui giornali è scritto però giovedì sera non lo sapevamo ebbene il video che arriva si riferisce proprio giovedì sera a tele lombardia dove la polanco era ospite con me con altri personaggi per parlare insomma di questo ciarpame che è uscito la polanco nega peraltro di essere stata intercettata con iris berardi a parlare male della montenegrina che è una delle due gemelline presunte fidanzatine di berlusconi che era misteriosa fino a pochi giorni fa e che oggi salta fuori insomma tante cose da dire nel frattempo insomma godetevi quel video di cui peraltro parlano anche i giornali nazionali e non dimenticatevi che entro fine settembre spero entro il 30 di partire con questo progetto che è contatto intanto fatevi un buon fine settimana ciao ciao ciao